E bello a tutti ragazzi, sono Gio e bentornati su un nuovo video di Pokémon GO! Bomberoni, da questa mattina alle 10 è iniziato il mio evento, il nostro evento possiamo dire del team istinto, cioè il team giallo. Entriamo subito in game perché abbiamo veramente tante novità. E allora Bomberoni, eccoci qua in game, attenzione, andiamo immediatamente a prenderci, guardate qua, il pacchettino regalo, eccolo qua. Divertiti con questi oggettini gratis, quindi apriamolo, speriamo che abbiamo spazio borsa, teoricamente sì, eccolo qua. Ma grazie mille, grazie mille London che ci dà oggettini, andiamo messi in saccoccia, molto bene, attenzione, shiny check, iniziamo con il shiny check. Meo raga, abbiamo visto che l'abbiamo quasi appena trovato, sì, l'altro giorno, l'altro giorno abbiamo un altro qua, niente, l'ediba e infine Lily, Lily, normale. Ok ragazzuoli, allora direi di andare a vedere immediatamente cosa ci dice Scintilla Spark, eccolo qua, ehi, ehi Scintilla, allora vediamo un attimino, vediamo un attimino qua. Andiamo avanti con le nostre missioni, di qua, istinto dell'eroe raga, quindi da oggi, dal momento in cui sto registrando, ma l'evento è iniziato oggi, abbiamo sei giorni e quattro ore, tanta roba raga, doppio di punti esperienza da schiusa, doppio della polvere da stelle da schiusa. I pokemon dello stesso tipo di quelli in primo piano nascono più spesso dalle uova da 7 km, infatti adesso raga, andiamo a vedere qualcosina, è maggiore di possibilità che dei pokemon cromatici nascano dalle uova da 2, 5 e 10 km. Veramente pazzesco raga, non è mai appunto successa una cosa del genere in game, che abbiamo questo rate shiny più alto dalle huevos, ma andiamo a vedere, quindi qua siamo messi così, non c'è niente di nuovo. Prof, eccola qua, missione speciale, possiamo completarla quando vogliamo raga, quando si trovano le missioni qua sotto speciali, possiamo completarle quando vogliamo, non abbiamo tempo. Istinto dell'eroe, quindi quattro step, ok raga, super super easyissimo, quindi volevo mostrarvi perché se andiamo qua sotto, raga, ho già preso, eccole qua, delle huevos, praticamente quelle da 12, ma guardate qua, dobbiamo schiuderle tutte oggi, oggi non lo so, però dobbiamo schiuderle tutte, praticamente se andiamo, quelle da 2, dovrei già averle prese, eccolo qua raga, quelle da 2 km, che le troviamo tutte ormai in questo evento qua, però il pokemon più difficile da trovare, praticamente raga, qua sopra, vedete, questi qua sono i più facili da trovare, Cotonia addirittura qua sotto è difficile da trovare, mentre l'ultimo raga è l'Arvestralight, questo nuovo pokemon che ha debuttato in questo evento, guardate, cacchia raga, dov'è l'ultimo raga? È molto molto raro quindi da trovare, ne ho presa anche una da 7 km, raga, che dovrebbe essere questa qua, esattamente perché guardate qua, tutti questi pokemon qua possiamo trovarli tutti, raga, possibili, Shiny è veramente una bellezza, ma Gumi anche? Anche Gumi raga, non ricordo, no, Gumi non c'è, teoricamente non c'è ancora lo Shiny, quindi fatemi sapere raga, non dovrebbe esserci lo Shiny, mentre di tutti gli altri sì, inoltre anche il nuovo Shiny che ha debuttato per questo evento qua è Mantaic, eccola qua, la piccola mantida lì che è bellissima, raga però noi chiaramente puntiamo prima di tutto su di lui che ci manca, Shelmet, Carrablast e anche Axiu. No ma non ci credo raga, ho dato la bacca al mio compagno Moltres di Galar, guardate qua quanto gli manca, un cuore, gli manca un cuore raga, porca di quella miseriaccia, cosa non ho fatto? Foto fatta, giocare insieme. Ed eccolo qui completato, eccola qui la medaglia, yes raga, medaglietta anche a il Galar, abbiamo un'emolga qua, guardatolo lì che bellino, adesso vado poi anche a catturarmelo, ma aspettiamo raga, dacci dacci, eccola qui raga, dacci la, quattro cuori con il mio compagno, medaglietta presa, quindi poi dovrò andare a metterlo sotto l'etichetta best buddy, molto bene raga, molto bene, ma missioni come siamo qua? Queste qui, ma io queste qua raga le elimino anche, eliminiamo anche perché chi se ne frega potenzia potenzia, qua lasciamo, dopo in caso vado a prendermi anche quelle qua nei paraggi, ma eccolo qui il piccolo emolga. Porca miseria raga, guardate chi ho qua, Kecleon, l'ho appena già fatto il check, non è uscito Shiny, potrei tentare, andiamo a dargli comunque sia un ananas, potrei tentare raga, switchare i miei altri account, e tentare fin quando esce lo Shiny, ma starei qua magari, boh, fino a domani, anzi una settimana. Attenzione qua perché timbri settimanali completati raga, così almeno dopo ci prendiamo altre missioncine in giro, vediamo un po' cosa ci dà, un bello Snorlax, o il Frufru, anche il Frufru, dai dai dai, uno Shiny, uno Shiny da ricompensa, sarebbe apprezzatissimo, no, normale, normale, che pacco, 13,73. Missione speciale completata raga, andiamo, eccola qua, primo step super completato, ma prendiamoci le due qua, dai dai, vediamo, ma anche il normale. Io intanto vado avanti anche con questi eccellenti raga, molto molto bene, seconda, secondo, boh, chile, 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 magic art. Ok, giriamoci i Pokestop qui, ragazzoli, almeno ci prendiamo delle missioni, speriamo un po' dell'evento, qualcosa importante raga, interessante, vediamo un po' cosa abbiamo preso, molto bene, molto molto bene raga, top. Quindi, andiamo sotto, eccola qua, la speciale, prendiamoci tutto, prendiamoci tutto, quindi, bacchine, Pokéball, che, poche cosa ci danno ste robe qui, però va bene. Qua chi è? Pokémon, chi l'è, chi l'è, chi l'è? Execute. E lui è possibile Shiny, eh raga, quindi mi raccomando, se lo trovate tantissima roba, andiamo a prenderci un incubatrice più, cos'era, 1500, sì, di punti esperienza. Eccolo qua, raga, il nostro, ma guardate, com'è fiero lì, bellissimo, bellissimo, Spark, sei veramente un modello, quasi quasi, cominciano i moscerini, raga, che pacco, andiamo verso l'estate, ormai, istinto, eccolo qua, secondo step. Fai schiudere un uovo, molto bene, raga, cerchiamo di schiuderne il più possibile in questo evento qua, visto che abbiamo Vulcarona, Larvestre, questi nuovi Pokémon, raga, che abbiamo visto da dove si trovano. In più questo Boost Shiny Rate dà le uova, raga, mi raccomando, schiudete, il più non posso, usa 15 Bacchelampon, va bene, e fai girare ancora 20 dischi Pokestop o Palestre, va bene, raga, io quindi adesso direi che quasi quasi mi metto sotto, mi faccio una bella camminata, vediamo un po' cosa schiudiamo. Raga, guardate qua, ho appena fatto Checleo, normale, è normale, chissà come mai, chissà come mai, ma guardate qui, guardate qui, chi abbiamo qui, tacche Moltres di Galar, fantastico, raga, ormai lo sappiamo, adesso mi accingo alla sua cattura, attenzione. No, ma cacchio, raga, mi è scappato, mi è scappato, ha fatto un tocchettino lì e pam, e vabbè, raga, Bomberoni, non ci credo, non ci credo, eccolo qui, eccolo qui, eccolo qui, quant'è, 1700, 1700, e da un botto, raga, che non mi usciva un leggendario di Galar, soprattutto Zapdos, che sapete che è il mio preferito, aspettate, allora, facciamo così, provo, raga, a lanciare con una mano, attenzione, è una cosa molto, non me la sento. Oh, eccellente, eccellente, raga, eccellente, uno, due, ma vada via i chap, raga, i chap, porca di quella miseriaccia, cioè, ma cosa potevo fare d'altro? Bacca dorata, eccellente, e non è stato dentro. Eh, ma che due maroni, che due maroni, ma no, Zapdos, Zapdos, è il mio preferito, è il mio prefe. Era, cos'è, 1700, raga, andiamo a rivederlo qua sotto diario, 1700 punti lotta, cioè, basso, raga, basso, io mi ricordo il Moltres qua, che avevo catturato, era addirittura 2000 e qualcosa, cioè, molto, molto più alto, eppure è stato dentro. Aroma terminato, raga, e guardate qua, 19 Pokémon catturati, 1000 metri spaccati. L'ultimo che ho catturato lì, Espur, veramente tanta roba, anche, eh, Remorite, che mi manca, Remorite, sinceramente, Shine, invece, Espur l'avevo trovato dalle Wavos, ma niente di che, raga, niente di che, veramente, dei ciospi, dei ciospi, sarebbe stato apprezzatissimo, cacchiarola, quel Zapdos di Galar. Allenatori, ma che bello è camminare in mezzo alla natura, ho appena avuto un incontro, raga, con un piccolo pipistrello, veramente, minuscolo, più, molto più, la metà del mio telefono, praticamente, penso che è nato da pochissimo, raga, era in giro così, praticamente, io sono sul mio sentiero, raga, eccolo qua, era proprio in mezzo, per quello anche che l'ho visto, io, chiaramente, quando gioco, raga, non è che sono lì così, ma, chiaramente, osservo anche dove sto andando, e però, raga, praticamente, gli ho fatto una via di fuga, possiamo dire, una piccola stradina, non ho voluto toccarlo, perché, come sappiamo, sono bellissimi, io l'avrei preso anche in mano, raga, però, sono pieni di malattie, non volevo che, magari, mi va a attaccare qualcosa, e quindi, gli ho fatto un piccolo sentierino lì, così, almeno, pam, se è diretto verso, appunto, vedete qua, tutta la foresta, lì, siepi, roba varia, è andato dentro, e speriamo che la mamma, o i genitori, insomma, del piccolo pipistrello, vengano a chiamarlo, magari sono qua, sopra un qualche albero, però, sinceramente, raga, non mi è mai successo di avere un incontro così ravvicinato con un pipistrello, poi piccolino, in giornata, in pieno giorno. Ma dopo questa avventura, allora, raga, vediamo, eccolo qui, è lui, è lui, raga, eccolo qui, peccato che non è uscito Shiny, eccolo qua, il pipistrellino, andiamo a vedere, volevo vedere le huevos, come cacchio, siamo messi con queste uova, ok, ok, molto bene, almeno, questa qua, manca veramente poco, raga, almeno, ci schiudiamo, cos'è, due? Due da due chilometri, e le altre, manca ancora, manca ancora, attenzione qua, però, raga, sono a caccia, appunto, del nuovo, l'arvestra, lì, come cacchio si chiama questo nuovo Pokémon, speriamo che si schiuda proprio lui. Ed eccolo qui, allora, bomberoni, due huevos, due huevos da due chilometri. Eh, io qua, raga, vi ho detto, chi mi aspetto, il l'arvestra, lì, questo nuovo Pokémon, però, sarebbe anche apprezzato uno Shiny, ma chiaramente dobbiamo andare a registrarci, prima di tutto, quel Pokémon lì, nuovo, che ha debuttato. Attenzione, daie, 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 due huevos, che sono pochine, raga, sono pochine, però ci aspettiamo tanto, un Peaky Pack, ma cosa me ne faccio, raga, di un Peaky Pack, la seconda, vediamo la seconda, ma no, ma no, ma no, ma no, ma no, ma no, due Peaky Pack, qua, del cacchio, abbiamo fatto la missione, ok, 493, quello più alto, che valuteremo questo, fa schifo, quindi anche l'altro fa veramente pena, raga, adesso, allora, io mi prendo altre missioni, e let's go, insieme a tutto questo, raga, è arrivato anche il nuovo leggendario, eccolo qua, che ci invitano, entriamo, palestra gialla, anche, quindi, molto, molto bene, allora, siamo, pass, ne abbiamo, quindi, entriamo, entriamo, non è stato trovato, ma cacchierola, raga, se mi invitate, almeno, fate startare tutto del ride, no, invitatemi, eccolo lì, sa, si, anime, cioè, e allora, visto che non c'è il ride, raga, è peccato, peccato, andiamo a aprirci le due missioncine qua, che le abbiamo appena completate, grazie a far schiudere un uovo, raga, dopo sotto ne abbiamo ancora una, sì, molto bene lì, chi è, chi è, raga, queste qua, da un uovo, Mantine, bellissimo, seconda, seconda, dai, dovrebbe essere, no, dove sto andando, dovrebbe essere ancora lui, quindi, dai, dai, shiny, no, no, Magmar, qui, Mantine, raga, si presenta così, guardate qua, con un bluino, veramente, spaziale, ma dobbiamo trovare il mini, eh, il baby, tanta roba, tanta roba, raga, i bebini, bebini, e, allora, possiamo girarci qua, ok, vediamo un po' che missioni, andiamo a prendere, bene, 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 prima, raga, mi ha dato uova da 5 km, porca di quella miseria, cioè, ci mettiamo un botto a schiuderle quelle lì, cioè, chiaramente le metto nelle super incubatrici, però, sarebbero state apprezzate quelle da 2 km, assolutamente, allora, torniamo qua, ecco qui, secondo step, raga, andiamo a prenderci un aroma, aroma, che poi ho intenzione anche di andare a posizionare, raga, non so se oggi o cosa, un bel aroma, a vedere cosa ci spunta fuori, eh, Megaball prese, e qui abbiamo un incontro con, eh, Ferrosid, cacchiarola, che mi manca lo shiny, sarebbe stato bellissimo, ok, ok, andiamo a racimolarci il tutto qui, raga, quindi, cos'è, terzo step, ma ho visto, raga, che praticamente, per trovare l'arvestra, la forma base, è tipo, non lo so, 1 su 500, raga, se non di più, è veramente, è quasi come trovare uno shiny, cacchiarola, allora, 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 pazzarola, se parlano, comunque sia dopo, Spark, andiamo a leggerti tranquillamente, adesso siamo un po' di fretta, cattura 30 Pokémon, guadagna 5 caramelle esplorando con il tuo compagno, e fai schiudere 3 huevos, ok, raga, io direi, quindi, siamo comunque sia arrivati a 4 cuori, ma devo cambiare assolutamente il mio compagno qua, perché sennò, quando andremo a fare questi 5 cuori, non li faremo mai, vediamo un po' chi abbiamo, quindi, cronologia, compagno, Jimmy, Jimmy, in alternativa, un Pikachu o un Geridos, eccolo qua, io andrei a mettere, ma quasi quasi sì, raga, dai, il bel Jimmy, così almeno ci farmiamo anche un po' delle sue monete, e voilà, raga, eccoci qua con altre 3 missioni completate, mettiamoci qua, tranquilli, ho schiuso un uovo vecchio, raga, quindi, non ve lo mostro neanche, che ho trovato dentro un ciospo, un ciospo, andiamo a vedere qui, dai, prima, Snorlax, cacchiarola, che bella missione, eccolo qua, preso Snorlax, anche raddoppiato, raga, non sono riuscito a fare eccellente, cacchiarola, per un soffio, porca di quella miseriaccia, shiny check, ursi, ursi, teddy ursi, niente, niente, missione, dai, un altro Snorlax, oh, Magneton, che non può essere shiny, e infine l'ultima, che chi è, dai, qualcosa di bello, magma, quindi qua io adesso, raga, allora andrò avanti con le mie schiuse huevos, mentre, mentre di qua siamo messi in questa maniera qua, ecco qui, raga, praticamente, mi rimane solamente quella lì di guadagnare 5 caramelle, esplorando con il mio compagno, in questo caso ho messo gemigool, che siamo arrivati, allenatori, dunque, oggi possiamo dire che è successo veramente di tutto, cioè il Zapdos di Galar, il leggendario di Galar, che porca di quella miseriaccia, inoltre anche Kecleon, i nuovi pokemon, nuovi shiny, raga, che dobbiamo andare assolutamente a registrarli, alla fin fine oggi però lo shiny giornaliero, niente, raga, ma tutto sommato è andata alla grande, dai, prepariamoci per la prossima schiusa huevos, raga, perché mi aspetto veramente tanta tanta bella roba, dai, huevos, bustate, dammi uno shiny, allenatori, e voi, come avete iniziato l'evento istinto, avete già trovato il nuovo pokemon, o addirittura qualche shiny, e per oggi Bomberoni da Gamer Joe è veramente tutto, mi raccomando l'iscrizione al canale per rimanere sempre aggiornati, e se il video, raga, vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bellissimo like, Gamer Joe vi saluta e ci vediamo alla prossima, ciao Bombers!